La situazione igienico-sanitaria dei 116 migranti a bordo della Gregoretti continua a destare preoccupazione. Più di 100 persone con un solo bagno e poi l'ispezione disposta dalla procura di Siracusa sulla Gregoretti oggi ha certificato che a bordo 29 persone sono malate, tra cui 25 casi di scabbia e uno di tubercolosi. I giudici di Siracusa hanno consigliato lo sbarco perché altrimenti si commetterebbero, ha detto il procuratore, altri reati. La vicenda Gregoretti apre una nuova divisione nel governo. Il primo ad alimentare le tensioni tra 5 Stelle e Lega è il vice premier Luigi Di Maio. Non si trattino i militari della nave Gregoretti, ha detto Di Maio, come dei pirati. Le parole di Luigi Di Maio suonano come un alto là a Salvini. Dal Ministero dell'Interno si fa sapere che una soluzione è vicina e ad annunciarla sarà proprio Matteo Salvini in persona. E mentre gli sbarchi di migranti proseguono, questa notte nel Salento sono sbarcate 80 persone a Roma, la Guardia di Finanza ha scoperto un'associazione a delinquere per il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, composta da italiani e cittadini del Bangladesh. Misure cautelari per 13 persone, tra queste 4 sono finite in carcere e 6 agli arresti domiciliari. Coinvolti anche 3 dipendenti dell'anagrafe del Comune di Roma che dietro il pagamento di mazzette rilasciavano documenti falsi per il permesso di soggiorno.